Il Rotary Club Vallo della Lucania e Cilento, in collaborazione con l'UODS di Oncologia del Presidio Ospedaliero di Vallo della Lucania e l'ASRA di Salerno, promuovono il progetto dal titolo Educazione alla Prevenzione Primaria, un progetto rivolto ai ragazzi frequentanti, la terza classe delle scuole di Agropoli, Vallo della Lucania e Giungano, durante i quali saranno affrontate tre tematiche fondamentali, educazione alimentare, stili di vita e dipendenze, tutelare la dell'ambiente. Sarà illustrata inoltre nel corso degli incontri l'importanza della dieta mediterranea e saranno fornite delle indicazioni di base sui benefici di una dieta bilanciata, nonché sugli alimenti da preferire a quelli da evitare. Inoltre si porrà l'accento sui benefici dell'attività fisica, verranno spiegati i dati fisici e psichici provocati dal fumo di sigaretta, dagli alcolici e dall'utilizzo di sostanze stupefacenti. Infine si spiegheranno ai ragazzi quali sono i possibili danni provocati dall'inquinamento, dall'abbandono inappropriato dei rifiuti e le norme comportamentali da adottare per ridurre la contaminazione dell'ambiente da agenti infestanti. Al termine degli incontri saranno somministrati due brevi questionari.